E ragazzi, prima di iniziare vi vogliamo avvisare che in questo video purtroppo non ci saranno le webcam Perché abbiamo avuto un problema durante la registrazione Ma abbiamo deciso di pubblicare lo stesso questo video Perché siamo super soddisfatti di com'è uscito e rifarlo non sarebbe stata la stessa cosa Buona visione! Buona visione! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph E che siete il cameraman Roblox? E oggi ragazzi abbiamo una missione importantissima da affrontare Perché sì, dovremo scalare l'Everest Guardatela, neanche si vede da quanto è alto e lontano Inizia tutto da qui Abbiamo visto che ce l'avete consigliato nella live di questi giorni E quindi abbiamo pensato, boh, proviamolo Se non è curioso, è qualcosa di diverso Scusa, non ti piacerebbe scalare l'Everest? A me sì, quindi, perché non provarlo su Roblox? Per iniziare a arrotolare, graffaresti la discesa più veloce dall'Everest Assolutamente, scatenere una valanga con la mia caduta arrotolando Quindi non sarebbe una bella cosa Comunque vedo che tutti sono vestiti proprio con la tuta per il freddo Esatto, brava, guarda, guarda come lui Hanno lo zainetto E quindi sicuramente la dobbiamo prendere anche noi da qualche parte Esattamente Perché siamo gli unici non pronti per questa carata Esattamente Entriamo in una di queste tende Perché se sono tutti qua davanti probabilmente Ci sarà un motivo Ci sarà un motivo Ci sarà un motivo Cioè, vediamo E infatti, eccoci qua Non vedo nulla Lo vedo Mettiti con lo schermo Ah, sì, ok, ci sono E dove le devo prendere le cose? Questo è lo zainetto Esatto Eccolo, 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 eccolo Ci metti davanti all'azianetto Puoi prenderti anche la torcia, credo Non riesco a prendere l'ossigeno Cioè, se poi muoio lì sopra Cioè, capito? Nooo Che stai facendo? Cos'era? Guardami Guarda quanto sono bello Siamo pronti per iniziare la nostra spedizione Sono emozionatissima Non so cosa aspettarmi da questo tipo di gioco Neanche io E sono super emozionata perché non vedo l'ora di affrontarlo Mettiamo un po' di radio? Sì, vai Musica! Che canzone c'è? Non funziona? Ovviamente è la radio per contattare Non per mettere musica Mi dispiace Bene, bene, valevamo musica Vieni, vieni, vieni Si inizia, si inizia Ma c'è un buco già Ma devi stare molto attenta E tu pensavi che venivi qua a scherzare Chiacchierare, divertirti Ma qui si fa sul serio Guarda qua sotto Guarda le caverne che ci sono sotto Esatto Ma siete matti ad aver scavato così tanto Se caschi qua ti spacchi una gamba, capito? Bisogna stare attenti No, ti spacchi anche la testa Comunque nessuno ha scavato, eh Sono cose che si formano in modo naturale Non l'ho mai guardato, Berggritz? No Ok, praticamente il ghiaccio si scioglie Si formano delle correnti d'acqua E l'acqua sul ghiaccio scioglie Quindi si formano questi buchi Sì, lo immaginavo Però volevo sentire la tua spiegazione così esaustiva Mi è piaciuta molto, sì Guarda Perché sei caduto? Ma puoi esplorare? Non sei morto? Non ho subito troppi danni da morire Ma salga di nuovo qui Non mi abbandoni Signorina, mi aiuti La prego Allora, non ho preso una corda Qualcuno mi salvi Vabbè, vorrà dire che continuerò la scalata senza dire Dovrei esplorare tutta sola No, ma sali, dai Non mi abbandonare Non sono stato abbandonato No, ma sei caduto come un pollo Non sei stato abbandonato Nessuno ti ha voluto abbandonare Guarda, sei il pollo tu, quindi Il mio team mi ha abbandonato Perché volevo andare troppo in alto Nessuno se la sentiva E quindi rimasi solo nel Monte Everest Riuscirò a compiere la mia bellissima missione Oppure morirò congelato in questa Leanda desolata Dove l'unica cosa che puoi trovare È un pezzetto di ghiaccio come amico E dopo mesi di solitudine Ritrovai la mia compagna più fidata E muoviti che mi stai facendo congelare il sedere qui sopra Finalmente non sono più solo Sederino, per favore Boh Quelle parolacce non ci dicono Non erano parolacce, è giusto dirlo Allora Sederino, sì Il sederino allora mi ha fatto congelare Aspetta, aspetta C'è bisogno della luce qua Non vorresti cascare di sotto Guarda, guarda Guarda come illumino bene No, l'avevo già visto Guarda come adesso vedi ogni minima buca Non sa perché Io sono rimasto mesi e mesi in solitudine Quindi so bene cosa vuol dire cascare di sotto E mi fidi Non vuole cascare di sotto Mi fidi? Non si fidi, mi fidi Mi fidi Ok Ho imparato un nuovo linguaggio lì sotto Il linguaggio delle caverne dell'Everest Esatto E adesso? E adesso bisogna continuare a salire C'era tutto il percorso Lì ci sono delle tende Andiamo a vedere Andiamo a vedere Ma secondo te nelle tende troviamo di nuovo tipo I nostri vecchi compagni troveremo Assiderati lì sotto No, no, stanno benissimo tutti Ah, stanno benissimo Sì, 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 te lo garantisco io Salve, c'è nessuno? Buongiorno Buongiorno, buongiorno Allora, non toccare nessuna tenda Che sai come va a finire Io ci provo Sono pazze queste tende Ok Ok Dove sei entrato? Dentro una tenda Eccomi anch'io Buongiorno Salve Siamo protetti C'è qualcuno che dorme, vedi? Sotto la neve proprio dorme Questo è per fare un riposo Ma noi non siamo qui per riposarci Noi siamo qui per scalare l'Everest Continuiamo Continuiamo la nostra casa Se tengo a precisare una cosa In questo gioco non si può saltare Ah, ho appena notato, sì Ok, quindi dobbiamo trovare sempre una strada Che ci permette di salire senza saltare Vedi, tipo qua Ok, 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 ok Quindi tutto è più difficile Ci sono Andiamo a forza Secondo me ci perderemo malissimo Io ne sono quasi sicura Beh, tanto Ma abbiamo un'indicazione Tipo dobbiamo andare a sud Amica mia Niente Ti venirei in alto Ci vuole molto Sempre in alto E vabbè, però contendo che non possiamo saltare Ci sarà per forza una via da seguire Quello intendevo Scusa, non mi capisci La devi trovare, capito? Vedi Sta nell'abilità dello scalatore Trovare la strada giusta Non siamo dei scalatori amici Perché non mi capisci Quindi Intanto io sto scalando Come una meraviglia Guarda che bravo che sono Forza No, non ce la posso fare Non mi puoi abbandonare Lasciatevi qui No, non ti lasciamo Lasciatevi qui Non ti lasciamo Senza di te non ha senso C'è stato fatto pure quello Ma io non ci credo Forza, ci stanno abbandonando Stanno continuando a salire Noi non sappiamo più la strada poi Ma non ci riesco Come hai fatto? Io ho fatto sinistra a destra Allora Siamo molto in difficoltà Non si capisce più Che strada dobbiamo prendere Secondo me qui dal lato E come continuare a salire E cercare di continuare a salire Sempre verso l'alto No, non funziona Ragazzi Cosa state Oh, guardali Bravissimo Ma sei proprio bravo tu Mamma mia E io non riesco a me a salire No, guarda cosa si è messo La slitta Vai Salici sopra Perché? Io sono già su Perché poi ti tirava su Ma io ci sono già Ma no, ma perché Questi oggetti bellissimi Signorino Guarda, è salito il tizio Adesso lui lo tira su Piano piano Guarda È fantastico È fantastico No, bellissimo Abbiamo capito Chi dobbiamo continuare a seguire Ok, adesso Adesso Amico Ho paura di andare avanti E di cascare di sotto Eccomi Arrivo Dove stai andando? E ci sto provando Che ti devo dire Qua, 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 qua Vieni, vieni, vieni Guardate come Ferinichi Trova la strada giusta Costantemente Sono nata per fare lo scalatore Dell'Everest Più veloci, più veloci, più veloci Perché siamo messi male Secondo me Che secondo me Non è che siamo messi benissimo Stiamo soffrendo Allora, qui invece Così, così, così Funziona, funziona Siamo arrivati al secondo accampamento Che bello Un po' di riposo possiamo prendere Vedo qualcosa da indossare Vedo qualcosa da indossare Potrebbe essere un nuovo tank Dato che il nostro è andato distrutto Lo spero Fai vedere? Sì, 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 sì Oh, perfetto 99% di nuovo Dai Benissimo Benissimo, benissimo Allora, c'è anche una torcia lì dentro Solo torce Perché servirebbe anche dell'acqua Dell'acqua sarebbe utile poterla riprendere Tu quanto è l'idratazione? L'idratazione l'ho bevuto una volta adesso Però mi hai detto Sono tornato al 96% E ho il 75% della bottiglietta Ok, ho bevuto pure io lo stesso E sono di nuovo È tempo di ripartire All'86 perché ero più bassa di te Ok, ripartiamo Sono pronta Andiamo Verso dove andiamo? Sinistra Ok, ti seguo Hai notato quanto è in alto ancora? Sì, è in altissima Non ce la faremo mai E guarda sotto Guarda sotto quanto siamo in alto Hai visto quanto siamo in alto? Incredibile Quanto abbiamo scalato Siamo bravissimi Let's go Let's go Dai, finché seguiamo lui Secondo me ce la possiamo fare Anche secondo me Sono fiduciosa Mi sembra molto esperto Quindi finché Riusciremo a scalare l'Everest ragazzi Ce la possiamo fare Però Scusate Vabbè, magari non se la ricorda a memoria Giustamente No, no, va bene Noi ci stiamo affidando a lui No, qua mi sembra impossibile Scusami Ma perché lui ci riesce facile a fare? Ah, sì, sì, sì Devi beccare il punto Devi beccare il punto No, io non sopporto questi posti Dove devi beccare il punto Perché non ci riesca Oh, issa La lag è sempre peggiore Oltre al freddo Secondo me È fatta apposta Capito? Per soffrire Per renderti la scalata Ancora più difficile Capito? Come se la stessi davvero Vivendo Mi sembra una cosa giusta Io sto soffrendo Perché davvero Stanno aumentando sempre più Sti scatti E non si capisce più nulla Esatto Ce la facciamo qua? Guardate ragazzi Guardala Io non ci credevo Finalmente Non credevo che potevamo arrivare Davvero fino a qui Ma adesso vedo una scala Ma siamo bravissimi Siamo bravissimi Ce la stiamo facendo per davvero Non ci credo Guardate quanto abbiamo scalato Sinceramente in mezzo al freddo E tutto lì Attende che c'è un buco Ok Non perdere tutto adesso Stavo iniziando a perdere le speranze Stavo davvero iniziando Come hai fatto a salire qua? Oddio Ho paura Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Aspetta Ho troppo paura di cadere nei buchi All'ultimo Ok Mi posiziono bene Vai E salgo Vai prima tu Ok ci sono vai Perché ho paura di farti cadere Ci sono Ok vado Oh mamma mia ragazzi No Che hai fatto? Si può cadere dalla scala Stai attenta E come dovrei capirlo? Aiuto Devi stare sempre dritta Ok Ok aiuto Ho una paura incredibile Ho paura di guardare in alto Quanto è ancora alta Perché ho paura di cascare Quindi guardo semplicemente È altissima È davvero altissima Abbiamo soltanto il 40% della bombola E dopodiché siamo fregati Oh mio dio Stai attenta adesso Aiuto No 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 Mi è cresciato il gioco Perché mi succedono queste cose? Perché? Non ci posso credere No Andavamo io e te Questa avventura che durava ormai mesi Sto per lanciare il pc dalla finestra Non ci credo E mi abbandoni per una stupida connessione Pensavo che fossimo andati oltre a queste cose Io e te Scala Everest anche per me Finiscilo Va bene Mi accompagna Finiscilo del mio onore Se la farò Oh mamma mia Aiuto Fai attenzione No guarda Sono tristissima Cioè guardate Aiuto Non carica più sotto da quanto siamo in alto Non ci credo ragazzi Guardate questa scala È senza ossigeno Fai attenzione 0% Dice che infatti sono totalmente senza ossigeno Non ci posso credere Ti devi muovere Ti devi muovere Perché non puoi tornare indietro Arrivati a questo punto Non ci posso credere Non ci posso credere ragazzi Questo è un problema gigantesco Ci sarà un posto dove prendere ossigeno però no? O forse sono stato troppo lento? Non lo so Mi sembra strano Cioè mi sembra strano Cioè stiamo stati anche abbastanza rossi No 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 Devo correre Devo correre Ce la possiamo ancora fare Secondo me è l'ultima scala Perché non ne vedo altre Secondo me è l'ultima Sei troppo speranzosa E beh siamo da due ore e mezzo Stiamo facendo scale Mi sembra anche giusto Dai 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 C'è il campo però Il campo Sì ma poi c'è un'altra montagna Però c'è il campo E ti puoi riprendere l'ossigeno Vai corri a riprenderti l'ossigeno Forza 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 Io sono stank Mi fanno male le gambe E ci credo che ti fanno male Mamma Mi fanno male le gambe Quando mi hanno detto Mi hanno proposto questa avventura Non mi avevano detto Che si abbia durata così tanto Vabbè che ti aspettavi Ti dicono di scala all'everest In quanto lo vuoi fare In quanto lo vuoi fare Però pensavo fosse una metafora Capito È difficile No non lo è È l'esperienza più dura della tua vita Pensavo fosse tutte metafore Io sinceramente Allora Riprendiamo l'ossigeno Non è l'ossigeno quel Oh sì Che cos'è sta cosa La maschera Non lo so No è l'acqua Qua posso riempire la bottiglietta Quindi bevo Ah perfetto Bevo Riempiti totalmente di acqua Di idratazione Perfetto Riempi di nuovo la bottiglia Ok Ok fatto È qua dimmi che c'è Ok Sì c'è tutto C'è per fortuna Sì Prendi tutto di nuovo Prendi tutto Allora è la parte finale Solo i migliori arrivano fino a qua Sento che ci sono C'era una voragine davanti a te E infatti Ferinichi non è arrivata Allora a me è crashato il gioco Scusami Ed è colpa tua che la connessione non funziona Va bene? Guarda Quindi diamo la colpa a te Guarda questo buco Allora non camminare nel bordo Cammina al sicuro Perché se cadi Stanno avendo le vertigini No se cadi adesso io ti ammazzo Cioè perché ormai la devi finire questa montagna Si è mosso Che l'ho visto Mamma mia che paura Attenta a questo che si muove pure Corri 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 Ok Ok Vai vai Ok Guardate adesso Ma vabbè Guardate adesso c'è la scalata più estrema mai vista Allora dobbiamo scendere addirittura Non ce l'ha mai capitato di scendere E mi sono mezzo buttato Oh mamma mia Ma c'era qualcuno sotto? Eh può essere Si vedi? Sono i due disgraziati di prima Ma quelli che hanno cercato di farmi cadere Vai dritto Hanno sbagliato strade Hai visto? No no hanno sbagliato Quando si è mosso L'ora seguente in due Se si muove è ancora più difficile Sono caduti La cosa si fa seria Come se non lo fosse già abbastanza Adesso si rischia tutto Guarda Guarda dobbiamo riuscire Ma sono proprio cattivi Ad arrivare nella scala sinceramente No 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 Forza Forza Ma che non è dall'altro lato Lì dal Eh ma da qua c'è più paura di cascare Eh lo so Ma che devi fare? Amico Vai Amico Oh Vai no Oh mamma mia Non è detto l'ultima parola Vai Oh mamma mia Che paura E tutto nelle tue mani Ce la devi fare Ce la devi fare Ok Sì Sì Vai 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 Scala scala Guarda quest'altra come è messa Sì vabbè come Cioè ma falla al contrario Come faccio? Non lo so Eh no il contrario non lo puoi fare Perché poi c'è la montagna Piano 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 No 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 Ragazzi Aiuto mi stai mettendo un'ansia assurda E tu? Aiuto No Sto soffrendo No ma sono due disgraziati Cosa vuol dire che sta cosa? Cosa vuol dire? Aiuto Aiuto No non ce la faremo mai Ringrazio di essere crashata Guarda sinceramente devi ringraziare Altro che lamentarti Altro che pensare che era quasi finita Io la volevo scalare tutta Vai 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 Forza Guarda Capitan Jeff Non ne può più guardalo È lì poverino che sta per volare e abbandonarti Capitan Jeff dice Questo è solo il riscaldamento Capito? Perché lui dice Ma quando è che inizia la scalata? D'altronde sta nella spalla Quindi non è che fa molto E poi lui sta a volare Oddio Mamma mia Sai perché ho rischiato? Perché ho visto La montagna ricomparire Sopra di noi Ma guarda Camp 4 almeno Possiamo rifullarci di nuovo Buonissime notizie Buonissime notizie Allora L'ho ossigeno Ossigeno perfetto Visto siamo andati talmente veloce Che ne avevamo ancora il 58% Sì buonissimo Buonissimo Ok qua non ci fermiamo a riposarci No 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 vai dritto Andiamo Mamma mia Ma quanto sarà grande ancora? Tantissimo Cioè ragazzi Io non so più neanche di quanto tempo ci siamo No non è la più pallida Non ricordo più quando abbiamo iniziato Non da quanto ci siamo Ma da quanto abbiamo iniziato Vedi allora Siccome la scalata nell'Everest è una cosa che richiede parecchi mesi Anche a me sembra di essere sei mesi in questo gioco guarda Mi sta dando la stessa impressione Almeno è molto realistico Ti dà le stesse sensazioni Si ma sta soffrendo Esatto Non ne posso più Devi soffrire per scalare l'Everest Devi soffrire Non ne posso più È fatto bene È realistico Non è realistico Certo che lo è È una sofferenza Non finiremo mai Non so È diventato tutto a scale ormai Beh non sarebbe realistica altrimenti No vabbè Non finiamo mai Mezz'oretta veloce La finiamo Un elicotterino Ragazzi È successa una cosa incredibile Sono rimasto bassissimo di vita Perché questo qui è caduto dall'in alto Mi ha colpito in pieno Ci ha fatto cadere Ci ha fatto cadere No io ti giuro Ho avuto il terrore che è morissimo E che fosse finita È finita Aiuto Se fossimo stati leggermente più in alto Saremmo morti Allora controlla che non ci sia qualcun altro Che sta cascando all'improvviso Perché davvero Incredibile Aiuto Guarda ho capito Quanto Quindi questa parte pure è molto pericolosa Guarda Guarda che cos'è Oh mamma Cioè adesso io come Vado Capito Le scale sono rotte Così Le scale sono rotte Ecco perché Sì 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 è normale Siamo talmente in alto Che anche le scale non reggono più Aiuto Che perché queste sono le scale da muratore Vorrei capire come le hanno unite tutte insieme Per scalare un Everest Qualcuno che l'ha scalato prima di te Scusami Ti sta almeno facilitando la scalata Sì ma dico Usa scale migliori Magari Non economiche Siccome ne devi mettere tante Oh mamma mia Oh mamma No è impossibile Oh mamma mia Io almeno inizio Pensavo che non lo finiremmo Siamo arrivati alla parte davvero estrema No Cos'era? L'infinito Così ma stiamo arrivando sulle fine dell'Everest O sulla luna? Sulla luna Guarda Azzardo di Uh No Adesso E adesso No Adesso dove dobbiamo andare ragazzi? Dove? Qua Qui Cos'erano quei versi? Non lo so Siamo perso strano Ok Lei ha visto la scala? Sì Ok piano Non ci credo No dai assurdo Difficilissimo Non ci credo È iniziato così tranquillo Così bello Sì 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 Tu pensavi Una gita in montagna Esatto Esatto Tu pensavi stai facendo una cosa sobria Hai fatto da vabbè Ma scalare l'Everest Ma che ci vuole 5 minutini Scaliamo Tra la l'era Tra la la Infatti noi abbiamo iniziato a mezzogiorno e mezzo Abbiamo detto Dai 20-30 minuti Ci scaliamo l'Everest E poi andiamo a pranzo E fu così che furono le luna e mezzo E morirono di fame Esatto Sicuramente io se finisco questa cosa Me la metto nel curriculum Scalato l'Everest su Roblox Esatto Occhio che c'è un buco là Sì Siamo passati Guarda costantemente cambia Ora Oh no 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 Non ci credo Ma è impossibile dai È impossibile Ma perché Perché È fallita È tutto fallita Da dove riandiamo? No è fallita È andata Non puoi? In primo modo no No Il nostro sogno Non me lo dire Si è frantumato per le scale dei muratori Che si muovono troppo E fanno cadere gli scalatori eroici come noi Direi di fermarci così ragazzi Pazienza dai Secondo me Secondo me siamo andati lo stesso benissimo È stata un'esperienza davvero fantastica Siamo stati molto coraggiosi È stata una scalata eroica Io sono crashata e quindi sono caduta prima di te Tu sei caduto da una scala Io direi che almeno ci abbiamo provato E ci abbiamo messo tutto il nostro impegno Tutti riescono a scalare l'Everest Infatti guarda Eravamo praticamente soli E non ce l'abbiamo fatta Ci hanno quasi ucciso cadendo E alla fine siamo caduti qua È successo davvero di tutto Però rimarremo qui per sempre Fermi Ma che per sempre Meglio suicidarsi A sperare che qualcuno ci salvi Eh no Ti sei rotto in pezzi In piedi Bene che se li riusci così Sui cittadini Lasciateci un bel like E se è la prima volta che avete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao